Buongiorno alla vigilia del derby, una partita che esula come al solito da qualunque pronostico, sì lo è, perché non c'è una differenza tale per cui non è Barcellona e Spagnol, con tutto il rispetto ovviamente per l'Espagnol di turno, ma non è la vittima sacrificale, non esiste una vittima sacrificale nel derby di Milano, raramente è accaduto. Favorita l'Inter? Sì, secondo me è leggermente favorita l'Inter, non fosse altro perché Inzaghi ha la rosa completa a disposizione, l'imbarazzo della scelta, questo nonostante le trasvolate oceaniche dei sudamericani che sono stati impegnati nelle qualificazioni mondiali, non ho capito perché poi, vabbè fa niente, è inutile fare discorsi su Lautaro e sul perché non abbia saltato la seconda partita, del tutto inutile, il Milan ci arriva probabilmente senza Ibra, il Milan ci arriva probabilmente senza Tomori, e l'Inter ci arriva invece da prima della classe dopo aver recuperato 11 punti e una partita ancora da giocare a Bologna, magari gli 11 resteranno 11, magari diventeranno 14, chissà mai, certo è che dal mio punto di vista è l'ultima chiamata, cioè se il Milan perde questo derby trovo veramente complicato che riesca a recuperare poi 10 punti all'Inter vincendole tutte. Finisce 1-1, l'ho detto, se proprio deve vincere qualcuno, lo ripeto, vince l'Inter, tipo 2-1, ma è una cosa così. Ciao!